Ci riallacciamo, anche se un po' alla lontana, con un tema che ho già toccato oggi, ci siamo soffermati per qualche minuto oggi sulla vicenda ancora di Saddam Singh e la questione del pesante sfruttamento dei lavoratori agricoli, tendenzialmente di origine migrante, e proprio di viaggi verso l'Italia e soprattutto di alcuni aspetti di questi viaggi vogliamo parlare, prendendo il via da un rapporto che sta per uscire, noi ve lo parliamo appena prima della sua pubblicazione, un rapporto stilato da Medici per i diritti umani, si intitola Frammenti e ne parliamo con il coordinatore generale, ma anche medico e psicologo. Alberto Barbieri, intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Grazie mille davvero, anche perché appunto è un tema sul quale ci vogliamo soffermare con attenzione, beh lo facciamo spesso, ma insomma sono sempre interessanti le storie che emergono, anche perché il punto di vista, il taglio di Medici per i diritti umani all'interno di questo rapporto porta con sé un po' anche l'approccio particolare di Medici per i diritti umani nel trattare determinate fasce della popolazione e quindi insomma forse ci sono alcuni elementi che non vengono moltissimo raccontati all'interno delle migrazioni, si parla di trauma e di salute mentale che forse, un po' come per quanto riguarda il resto della popolazione, tendiamo a lasciare un po' indietro, è una colpa che abbiamo anche dal punto di vista forse di insomma mediatico, narrativo. Ma allora qui in questo web report, appunto un rapporto che tra pochi minuti si potrà leggere su Medici per i diritti umani, si chiama Frammenti, allora partirei proprio da questo titolo, come mai avete scelto questo nome così particolare? Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito, ci fa molto piacere presentare questo nuovo nostro web report sulla vostra radio che è sempre molto attente e sensibile ai temi dei diritti umani, ai temi dell'intervento umanitario di cui ci occupiamo. Frammenti, perché il titolo Frammenti? Perché appunto si dice spesso che le persone sopravvissute a eventi traumatici, estremi, come può essere appunto la tortura e la violenza intenzionale, vanno incontro ovviamente a lesioni fisiche, subiscono lesioni fisiche, anche molto invalidanti, ma diciamo ancora di più spesso si possono vedere anche se più insidiosi gli effetti sull'equilibrio psicologico della persona, quindi si vede un po' il trauma come un evento traumatico, appunto può essere la tortura, come qualcosa che frammenta, porta una drammatica frammentazione delle funzioni psichiche che le persone subiscono quando sono sottoposte appunto a traumi così estremi. E dall'altra parte il percorso di cura, di riabilitazione, di recupero della persona può essere visto proprio come un lavoro molto faticoso, lungo ma indispensabile di ricomposizione di questi frammenti della mente, del corpo, del sopravvissuto, un po' come nella metafora si usa spesso, ma penso che sia molto efficace, dell'arte, della filosofia, dell'antica arte, filosofia giappone del kintsugi, che è appunto quell'arte di ricomporre i cocci di un vaso rotto incollandoli con loro, per cui queste ferite in realtà ricompongono l'insieme, danno valore a queste ferite e rendono poi il risultato finale ancora migliore di come era il vaso inizialmente, un po' anche il concetto della crescita post-traumatica che noi seguiamo. Tra l'altro oggi è un giorno particolare, immagino che ne abbiate già parlato, il 26 giugno che è la giornata internazionale contro la tortura, quindi ci tenevamo a far uscire questo web report oggi proprio per il valore simbolico di questa data, ricordando appunto che la tortura purtroppo non è un retaggio medievale, ma è diffusissima tuttora nel mondo, in tutti i continenti, in centinaia di paesi, e che è diffusissima e presente in Italia, questo rapporto ce lo ricorda, nel caso particolare per quanto riguarda il nostro lavoro rispetto a migranti rifugiati richiedenti asilo. Nel nostro paese vivono decine di migliaia di persone sopravvissute a violenze atroci e a tortura nel paese di origine o lungo le rotte migratorie, in particolare dall'Africa subsahariana e dalle rotte asiatiche. Quindi ci tenevamo a ricordare questo perché spesso si tende a dimenticare che la realtà della tortura e le persone che vivono con la tortura è una realtà estremamente attuale, drammaticamente, anche per il nostro paese. Esatto, esatto, ci riguarda molto da vicino, come quel caso che raccontavo in apertura, in quel caso non si parlava di tortura, ma insomma di estrema violenza legata al cibo che noi mangiamo ad esempio, perché molto spesso poi quello è l'ambito lavorativo, non è qualcosa di astratto che è slegato da noi, anche se poi magari non tutte le professioni sono quelle. Ma mi riallaccio un po' alla tua risposta perché tu parlavi del vostro lavoro, perché questo non è un rapporto che è stato realizzato con un occhio esterno rispetto alla situazione, che chiaramente avrebbe la sua dignità e il suo valore a prescindere, ma Medici per i diritti umani guarda queste situazioni dall'interno, cioè siete proprio impegnati quotidianamente in questo tipo di lavoro, anche dal punto di vista psicologico, per l'appunto. Ci puoi raccontare un po' di questa vostra attività? Sì, intanto per chi non ci conosce, Medici per i diritti umani, Medu è un'organizzazione medico-umanitaria che ha proprio l'obiettivo di portare aiuto sanitario alle popolazioni vulnerabili in Italia e all'estero nelle situazioni di crisi e insieme all'azione medica-umanitaria cerchiamo sempre di portare avanti un lavoro di testimonianza, di informazione rivolta all'opinione pubblica, ai decisori politici, descrivendo quello che vediamo e denunciando quello che vediamo, le versioni dei diritti umani dell'accesso alle cure nella nostra pratica medica quotidiana. e proprio dalla nostra pratica medica quotidiana poi sono nati i progetti psiche, perché appunto ricordando i dati e rilacciandomi a quello che dicevo prima, solo negli ultimi dieci anni sono arrivati in Italia circa un milione, più di un milione di migranti e di fugiati, in particolare appunto dalle rotte dell'Africa subsahariana, ma anche dalle rotte asiatiche e di cui una gran parte è sopravvissuta appunto a violenza intenzionale, a tortura nel paese di origine e lungo le rotte migratorie. Nella nostra casistica noi abbiamo potuto seguire solo 1500 persone ai nostri progetti dal punto di vista della presa in carico delle persone vittime di tortura e violenza intenzionale. Di queste 1500 persone che abbiamo seguito a partire dal 2014, più dell'80% è sopravvissuta a tortura, a violenza intenzionale, ad abusi gravissimi, per noi quasi inimmaginabili. Allora diciamo nella nostra pratica medica ci siamo resi conto che era necessario non solo un'assistenza medica più generale, ma un tipo di intervento di secondo livello, più specialistico, che aprisse appunto percorsi di recupero e di riabilitazione per persone sopravvissute a queste situazioni drammatiche. E per questo abbiamo aperto tre progetti, primo in Sicilia, poi a Ragusa, la provincia di Ragusa, quindi vicina alle zone di sbarco, poi a Pozzallo, le zone di sbarco nelle rotte del Mediterraneo centrale, poi a Roma che è un po' il catalizzatore e poi dell'arrivo di tanti migranti e rifugiati in Italia e nell'area metropolitana di Firenze, abbiamo appunto aperto dei progetti, dei centri, che si chiamano PSICHE, di salute mentale e transculturale, il cui obiettivo è quello appunto di dare un supporto nel percorso di inserimento e riabilitazione delle persone, tutte le persone, ma la maggior parte dei nostri pazienti, sono appunto migranti richiedenti asilo o rifugiati sopravvissuti a trattura e violenza intenzionale. Quindi abbiamo sviluppato in questi anni un'expertise e il rapporto è un po' il frutto di questi dieci anni di esperienza. Tanto come dicevi è un web report multimediale, c'è una parte ovviamente di testo in cui raccontiamo il nostro intervento, ma ci sono tante testimonianze, testimonianze video di persone che sono passate attraverso un percorso con noi, dei nostri operatori, e nell'insieme del rapporto cerchiamo di dare un quadro della complessità del fenomeno appunto del trauma e delle migrazioni e dei problemi di salute mentale nei paesi di accoglienza come l'Italia, oltre a presentare il nostro modello di intervento, la nostra esperienza, metterla e condividerla perché possa essere utilizzata da altri colleghi, da altri centri, e poi nella parte finale diamo una serie di raccomandazioni che nascono appunto dalla nostra esperienza, dal nostro lavoro quotidiano, per cercare di migliorare quella che è l'accoglienza all'inserimento di questo tipo di persone che hanno vissuto questo tipo di esperienze. Diciamo che l'Italia in questo momento è stato fatto parecchio, ma c'è un gap ancora grande nel sistema, nel servizio sanitario pubblico, nei servizi di accoglienza, rispetto alla presa in carica di situazioni così, convissuti così drammatici. Sì esatto, è qualcosa che indicate anche, ci sono delle linee guida che sono state indicate qualche anno fa dal Ministero della Salute e questo è l'ennesimo caso in cui per effettivamente rendere concrete queste linee guida si chiamano in causa associazioni, ONG, enti della società civile, per sopperire alle mancanze che si sarebbero indicate da sole le istituzioni, ma che non riescono a portare appunto a termine. Ci sarebbe molto da raccontare, ma insomma il tempo radiofonico stringe, io invito i nostri ascoltatori, i nostri spettatori a dare un'occhiata al sito di Medici per i diritti umani, se non sbaglio proprio fra pochi minuti dovrebbe essere visualizzabile per intero, insomma in maniera dettagliata il rapporto, ma insomma vi invito a dare un'occhiata a Medici per i diritti umani, un po' a prescindere anche da questo rapporto che chiaramente è l'argomento di oggi, ma non è l'interezza del lavoro di questo ente con cui dialoghiamo molto spesso. Intanto per oggi ci salutiamo, grazie mille Alberto Barbieri. Sì, Alessio, perdonami, se posso aggiungere proprio telegraficamente, ci tenevo anche a ricordare che questo rapporto lo abbiamo realizzato in partnership con il supporto dell'Agenzia ONU per i Rifugiati, UNHCR, e che i nostri progetti psiche sono sostenuti anche dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese e dall'Agenzia Umanitare LDSC che hanno permesso e permettono ogni giorno di lavorare. Due ultimissime parole, a mio avviso l'interesse appunto del report risiede molto anche nelle testimonianze dei nostri rifugiati, proprio nella copertina, tra le prime testimonianze video, ci sono a mio avviso due testimonianze veramente emblematiche, quella di una ragazza, una calciatrice afghana che è stata costretta a fuggire dal suo paese per il regime dei talebani e di un ragazzo somalo, giovanissimo, il quale si sorprende di essere ancora vivo e di poter essere in Italia. Sono secondo me molto emblematiche poi per far capire quello che vivono i rifugiati nel loro paese di origine e lungo le rotte migratorie. Chiaro, chiaro. Questo è insomma un po' un trailer di questo rapporto che potete trovare appunto sul sito di Medu. Grazie mille davvero Alberto Barbieri e buona giornata. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi.